Sono partiti dal santuario della spogliazione i pellegrini che da Assisi si sono mossi verso Gubbio, ripercorrendo, come da tradizioni, il cammino fatto da Francesco dopo la rinuncia dei suoi beni. Ad accogliergli il vescovo Sorrentino e a guidarli il vescovo delle diocesi di Gubbio e città di Castello, Monsignor Luciano Paolo Cibedini. Sentiamo le testimonianze di alcuni dei partecipanti. Assisi e il cammino di Francesco, per me che sono di Gubbio, sono qualcosa che appartengono alla mia identità e alla mia storia. Credo che senza vedere il paesaggio umbro il messaggio di Francesco non si riesce a capire bene. Vieniamo da Perugia, è già diverse volte che partecipiamo a questo pellegrinaggio e siamo qui ancora per rinnovare quel senso di libertà che Francesco trova proprio dove siamo adesso e per andare a trovare una nuova vocazione. Per noi, come famiglia, rinnovare la nostra promessa matrimoniale in questo contesto è sempre importante. Ci sentiamo sempre in cammino nella vita di tutti i giorni, davanti a ogni minima difficoltà, quindi affrontare subito questa salita con cui si partirà ci fa bene perché ci fa vivere la quotidianità con un senso diverso. Per noi questo cammino è importante perché facciamo parte dell'associazione della piccola accoglienza di Gubbio e quindi partecipiamo anche noi a questo cammino, a questo sentiero proprio per entrare in una sorta di legame con tutte le persone, con il Signore, con tutto quello che ha creato. Ecco, facciamo l'esperienza con i nostri bambini perché vogliamo che anche loro siano partecipi di questa esperienza e ecco, tutto questo. Il gruppo in cammino ha proseguito fino al Sagrato della Basilica di San Francesco per un momento di preghiera promosso dal Movimento Laudato Si. Tappa finale della prima giornata è la cittadina di Valfabbrica. Il giorno dopo i pellegrini sono arrivati all'eremo di San Pietro in Vigneto e infine a Gubbio. Nel pomeriggio a Gualdotadino si è svolta anche l'iniziativa di preghiera ecumenica interdiocesana organizzata congiuntamente dalle diocesi di Assisi, Nocera Umbra Gualdotadino e di Foligno dal Centro Laudato Si di Assisi, in collaborazione con la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa Romena di Perugia, la Congregazione Anglicana di Assisi, la Comunità Copta Ortodossa di Gualdo e il Comitato per il Centenario del Beato Angelo. L'iniziativa che quest'anno ha avuto per tema Sperare e Agire con la Creazione si è tenuta nel Santuario del Divino Amore per poi spostarsi all'eremo del Beato Angelo.